Studiare le condizioni socio-economiche delle famiglie dopo l'emergenza Covid, ma anche proporre degli interventi per mitigare i disagi emersi, è l'obiettivo dell'indagine pilota su 122 famiglie residenti nei quartieri di Sant'Eustacchio e Europa, situati nella parte orientale della città di Salerno. L'emergenza Covid ha raddoppiato il numero delle famiglie povere, è il primo dato che emerge dalla ricerca condotta nei mesi di aprile e maggio da un team composto dalla parrocchia di Sant'Eustacchio e dalla squadra di rugby popolare Zona Orientale, a cui ha contribuito anche la parrocchia Gesù Redentore con il supporto metodologico dell'Osservatorio Politiche e Sociali dell'Università di Salerno. Bisogna anche mettere in rete tutte quelle realtà associative, tante, che esistono sul territorio, sono solidali e fanno tante attività a favore dei cittadini, quindi l'idea è proprio di costruire questa rete territoriale, questo è il nostro obiettivo e per questo stiamo lavorando. Nella conclusione del lavoro si legge che in un contesto sociale e culturale svantaggiato rompere la trappola della povertà vuol dire anche curare gli aspetti dell'età evolutiva dei bambini, in modo da non incentivare nel futuro l'abbandono scolastico. Il lavoro ha un ruolo primario per gli intervistati, il reddito riesce solo in parte a sopperire alla sua mancante. I tentativi sono stati fatti, ma oggi c'è bisogno di incrementarli e di tentare di creare come dire una carità intelligente, perché molte volte quella carità pioggia non va a risolvere i problemi reali della gente. Emerge naturalmente grosse problematiche rispetto alla questione occupazionale, che risulta anche essere il primo argomento di discussione anche per le famiglie, per la prima esigenza, la priorità insomma. Inoltre uno dei grandi problemi riscontrati è la forte dispersione scolastica che avviene nella fascia di età già 0-6 anni e successivamente che poi si ripercuote anche nelle altre fasce ed età in fase scolare, quindi under 18. Tale dispersione è uno dei fattori scatenanti anche della cosiddetta trappola della povertà in questo quartiere. Inoltre altre questioni sono relative anche, come già detto Donnello, a un certo tipo di progettazione che magari potrebbe essere improntata più su aspetti qualitativi, in quanto notiamo che manca anche un apparato forte sulla formazione, al lavoro, quindi anche sull'occupazione e che sempre di più queste famiglie hanno bisogno poi di un tipo di aiuto assistenziale o comunque di aiuti pubblici per poter andare avanti.